Anticipazione una vita, mercoledì 19 febbraio 2020. Espinera fa delle rivelazioni davvero spiazzanti su Telmo e Fra Guglielmo, cose che quest'ultimo aveva sempre ignorato fino a quel momento. Il sacerdote decide di ritornare ad Acasias e quando incontra il suo pupillo ha un aspetto molto serio. Samuel è felice per aver fissato finalmente la data del suo matrimonio. Lucia invece non è affatto serena. L'Aldai è certo che accanto alla ricca ereditiera riuscirà a sistemarsi. I Palacios nel frattempo vivono momenti molto spensierati, ignari dello stato di salute di Trini che comincia ad avvertire dei leggeri malesseri. Legati alla gravidanza? Oppure a qualcos'altro come ad esempio una brutta malattia? Grazie a tutti.